Sigmund Freud, l'interpretazione dei sogni, 1899, le peculiarità psicologiche del sogno. Nell'esame scientifico del sogno partiamo dal presupposto che esso sia un risultato della nostra attività psichica. Eppure il sogno compiuto ci sembra qualcosa di estraneo, che non pensiamo minimamente di riconoscere come nostro, al punto che diciamo, mi è capitato di sognare, altrettanto spesso di ho sognato. Donde viene questa estraneità psichica del sogno? Da quanto si è detto sinora sulle fonti del sogno, dovremmo concludere che essa non è determinata dal materiale che entra nel contenuto onirico, fondamentalmente comune alla vita onirica e alla vita vigile. È lecito chiedersi quindi se non siano le variazioni dei processi psichici nel sogno a suscitare questa impressione, e si può così tentare una caratterizzazione psicologica del sogno. Nessuno più di Fechner, in alcune osservazioni dei suoi elementi di psicofisica, ha dato risalto alla diversità essenziale tra vita del sogno e vita della veglia, traendone ampie deduzioni. Per Fechner, né il semplice abbassamento della vita psichica cosciente al di sotto della soglia fondamentale, né la sottrazione dell'attenzione all'influsso del mondo esterno, sono sufficienti a spiegare le peculiarità della vita onirica rispetto alla vita vigile. Egli suppone, invece, che anche la scena dei sogni sia diversa da quella della vita rappresentativa vigile. Se la scena dell'attività psicofisica durante il sonno fosse la stessa della veglia, il sogno non potrebbe essere, a mio giudizio, che il proseguimento, a livello di intensità inferiore, della vita rappresentativa vigile, e dovrebbe condividerne la materia e la forma. Ma le cose stanno molto diversamente. Non è ben chiaro che cosa abbia inteso Fechner con questo trasferimento dell'attività psichica e nessun altro che io sappia è andato oltre nel senso indicatoci dalla sua osservazione. Un'interpretazione anatomica, riferita alla localizzazione cerebrale fisiologica o addirittura alla stratificazione istologica della corteccia cerebrale, sembra da escludere. Ma forse l'idea di Fechner si rivelerà ricca di significato e feconda se la si riferirà a un apparato psichico composto di più istanze inserite in ordine successivo. Altri studiosi si sono accontentati di dar risalto a questa o quella fra le particolarità del sogno più evidenti, servendosene come di un punto di partenza per ulteriori e più generali tentativi di spiegazione. E' stato giustamente osservato che una delle peculiarità fondamentali della vita onirica si manifesta già al momento di prendere sonno e va dunque considerata un fenomeno che introduce al sonno. Secondo Schleiermacher, la caratteristica dello stato vigile è costituita dal procedere per concetti e non per immagini dell'attività di pensiero. Ora, il sogno pensa soprattutto per immagini e si può osservare che nella fase precedente il sonno, nella stessa misura in cui le attività volontarie appaiono più difficili, si presentano rappresentazioni non volute appartenenti tutte alla categoria delle immagini. L'incapacità all'attività rappresentativa, da noi avvertita come intenzionalmente voluta, e la comparsa di immagini regolarmente legate a questa distrazione sono due caratteri che il sogno conserva e che noi, nel corso dell'analisi psicologica, siamo costretti a riconoscere come essenziali alla vita onirica. Di queste immagini, le allucinazioni ipnagogiche, già sappiamo, che sono identiche alle immagini del sogno, persino nel loro contenuto. Il sogno dunque pensa prevalentemente, ma non esclusivamente per immagini visive. Si serve anche di immagini uditive e in misura minore di impressioni degli altri sensi. Esattamente come nello stato vigile, molte cose vengono semplicemente pensate o rappresentate, quindi probabilmente espresse con residui di rappresentazioni verbali. Caratteristici del sogno, tuttavia, sono solo gli elementi del contenuto che si comportano come immagini, vale a dire che somigliano più alle percezioni che alle rappresentazioni mnestiche. Tralasciando tutte le discussioni, ben note agli psichiatri, sulla natura dell'allucinazione, concordiamo con gli studiosi più informati nell'affermare che il sogno allucina, sostituisce cioè pensieri con allucinazioni. Da questo punto di vista, non esistono differenze tra rappresentazioni visive e acustiche. Si è notato che il ricordo di una serie di suoni, uditi prima di addormentarsi, si tramuta nel sonno profondo, nell'allucinazione della stessa melodia. Più tardi, al momento del ritorno della coscienza, che può alternarsi più volte al sonno leggero, questa lascia di nuovo posto alla rappresentazione mnestica, più leggera e qualitativamente diversa. La trasformazione della rappresentazione in allucinazione non è la sola deviazione del sogno da un pensiero dello stato vigile che in qualche modo gli ricorrisponde. Con queste immagini, il sogno crea una situazione, rende attuale un fatto, drammatizza un'idea, secondo l'espressione di Spitta. La caratteristica di questo aspetto della vita onirica risulta però interamente delineata solo a condizione di aggiungere che nel sogno, di regola le eccezioni richiedono una spiegazione a parte, non ci sembra di pensare, ma di vivere, accettiamo cioè in buona fede le allucinazioni. La critica si fa viva solo al risveglio, non abbiamo vissuto, abbiamo solo pensato in una forma particolare, sognato. Questa caratteristica differenzia il sogno autentico dal fantasticare a occhi aperti che non viene mai scambiato con la realtà. Burdak, così riassume le caratteristiche sinora esaminate, sono essenzialmente tipici del sogno i fatti seguenti. A. L'attività psichica soggettiva appare oggettiva, perché la facoltà percettiva concepisce i prodotti della fantasia quasi fossero vive impressioni sensoriali. B. Il sonno è una sospensione dell'esercizio dell'autorità dell'io. Per addormentarsi occorre dunque una certa passività. Le immagini dell'assopimento sono condizionate dal rilassamento dell'autorità dell'io. Cerchiamo ora di spiegare la credulità della psiche rispetto alle allucinazioni oniriche, le quali possono manifestarsi solo in seguito alla cessazione di una certa attività di libera determinazione. Secondo Strumpel, in questo caso la psiche si comporta in modo regolare e consono al suo meccanismo. Gli elementi che compongono il sogno non sono affatto semplici rappresentazioni, ma vere e proprie esperienze psichiche, come quelle che si effettuano mediante i sensi durante la veglia, mentre nello stato vigile la psiche rappresenta e pensa per immagini verbali e per mezzo del linguaggio. Nel sogno pensa e rappresenta per autentiche immagini sensoriali. Nel sogno vi è inoltre una coscienza dello spazio, in quanto sensazioni e immagini vengono situate, come nella veglia, in uno spazio esterno. Bisogna dunque ammettere che nel sogno, di fronte alle immagini e alle percezioni, la psiche si trova nelle stesse condizioni della veglia. Se tuttavia sbaglia, ciò dipende dal fatto che nel sonno le viene a mancare il solo criterio che può permetterle di discernere la provenienza esterna o interna delle percezioni sensoriali. Essa non può sottoporre le sue immagini alle sole verifiche che ne indicano la realtà oggettiva. Oltre a ciò, essa trascura la differenza esistente fra immagini permutabili ad arbitrio e immagini nelle quali questo arbitrio viene a mancare. Sbaglia perché non può applicare al contenuto del sogno la legge di casualità. In breve, nel suo allontanarsi dal mondo esterno è anche la ragione della sua fede nel mondo onirico soggettivo. Alla stessa conclusione giunge Delboeuf, in base a sviluppi psicologici in parte divergenti. Noi crediamo alla realtà delle immagini oniriche perché durante il sonno non disponiamo, essendo staccati dal mondo esterno, di altre impressioni che possono servirci da confronto. Se però crediamo alla verità delle nostre allucinazioni, non è perché ci è tolta la possibilità di effettuare delle prove. Il sogno può farci balenare innanzi agli occhi tutte le prove. Può dimostrarci per esempio che stiamo toccando la rosa che abbiamo veduto e ciò nonostante noi seguitiamo a sognare. Secondo Delboeuf non esiste criterio valido per decidere se si tratta di un sogno o della realtà della veglia, all'infuori del fatto puramente in perico di svegliarsi. Chiamo illusione tutto ciò che ho vissuto nel sonno sino al risveglio. Se al risveglio mi rendo conto di giacere a letto svestito. Ho creduto alla verità delle immagini oniriche per l'impossibilità di far cessare nel sonno l'abitudine di pensiero che mi fa supporre un mondo esterno contrapposto al mio. Se in tal modo il distacco dal mondo esterno diventa il momento determinante che imprime alla vita onirica le sue caratteristiche più appariscenti, va la pena di riferire alcune sottili osservazioni fatte molto tempo fa da Burdak che illuminano il rapporto fra psiche durante il sonno e mondo esterno e impediscono una sopravvalutazione delle considerazioni precedenti. Il sonno si presenta solo a condizione che la psiche non venga colpita da stimoli sensoriali ma non è tanto la mancanza di stimoli sensoriali quanto la mancanza di interesse per essi a condizionare il sonno. Qualche impressione sensoriale è persino necessaria perché serve alla tranquillità dell'animo. Per esempio, il mugnaio dorme solo se sente battere le palle del suo mulino e chi per precauzione tiene acceso il lume di notte non riesce a dormire al buio. Nel sonno la psiche si isola dal mondo esterno e si ritrae dalla periferia però il legame non è completamente interrotto. Se non nudissimo e se non sentissimo già durante il sonno non potremmo neppure essere svegliati. Ma ciò che conferma meglio il perdurare della sensazione è che non sempre siamo destati dall'intensità puramente sensoriale di un'impressione ma dal suo rapporto psichico con noi. Una parola indifferente non sveglia la persona che dorme ma chiamatela col suo nome e quella si sveglia. Quindi nel sonno la psiche sa distinguere le sensazioni. Possiamo essere svegliati anche dalla mancanza di uno stimolo sensoriale. Se esso si ricollega a un fatto importante per la rappresentazione ci si sveglia perché il lume si spegne nel corso della notte il mugnaio si sveglia perché il molino si ferma dunque per il cessare dell'attività sensoriale e ciò presuppone che essa venisse percepita durante il sonno e che tuttavia non recasse disturbo alla psiche perché indifferente o meglio soddisfacente. Anche a prescindere da queste obiezioni che pure hanno il loro peso bisogna ammettere che le caratteristiche peculiari della vita onirica sinora esaminate e dedotte dal suo distacco dal mondo esterno non sono tali da spiegarne integralmente l'eterogenità. Altrimenti infatti dovrebbe essere possibile ritrasformare le allucinazioni e rappresentazioni le situazioni oniriche in pensieri e risolvere così il problema dell'interpretazione dei sogni. Ora a risveglio non procediamo in modo diverso quando riproduciamo il sogno nel ricordo ma sia che la riproduzione riesca integralmente sia solo in parte l'enigma del sogno rimane intatto. Tutti gli studiosi ammettono inoltre senza discussione che nel sogno si verificano altri e più decisivi cambiamenti del materiale rappresentativo della veglia. Strumpel tenta di isolare uno di questi cambiamenti come si può stervare nel passo seguente. Col cessare dell'intuizione sensibile attiva e della normale coscienza vitale la psiche perde anche il terreno nel quale sono radicati insieme ai sentimenti e desideri i suoi interessi e le sue azioni. Anche questi stati d'animo sentimenti interessi valutazioni che nello stato vigile sono connessi alle immagini soggiacciono a una pressione che li offusca e scioglie il loro legame con le immagini. Le raffigurazioni percettive di oggetti persone località avvenimenti e azioni della vita vigile vengono riprodotte singolarmente in gran numero ma nessuna porta con sé il suo valore psichico questo ne rimane staccato e le immagini vagano autonome nella psiche. Questa perdita del valore psichico da parte delle immagini che trova origine nell'allontanamento dal mondo esterno costituisce secondo Strumpel uno dei principali fattori dell'impressione di eterogeneità con cui ne ricordo il sogno si contrappone alla vita. Già il prender sonno abbiamo visto comporta la rinuncia a un'attività psichica cioè alla direzione volontaria del corso delle rappresentazioni. Questo ci porta a sopporre ed è ovvio del resto che lo stato di sonno si estenda anche alle funzioni psichiche l'una o l'altra è più o meno interamente abolita dobbiamo ora vedere se l'esercizio delle rimanenti funzioni psichiche prosegue indisturbato e se nelle nuove condizioni il loro rendimento è normale. La diminuzione d'efficienza psichica nello stato di sonno non potrebbe forse spiegare le particolarità del sogno è un'ipotesi convalidata dall'impressione che esso dà al nostro giudizio vigile il sogno è incoerente riunisce senza esitazioni le più grosse contraddizioni ammette cose impossibili trascura le nostre cognizioni così importanti durante il giorno ci fa apparire eticamente e moralmente ottusi riterremo pazzo che nella vita reale si comportasse come nelle vicende del sogno mentre chi da sveglio parlasse o ci raccontasse episodi come quelli che si svolgono nel contenuto onirico passerebbe per confuso o debole di mente ci limitiamo dunque a constatare una situazione di fatto quando diamo poca importanza all'attività psichica durante il sogno e dichiariamo abolite o perlomeno lese in modo grave le funzioni psichiche superiori con insolita unanimità dirò altrove dei pareri discordi tutti gli studiosi hanno espresso giudizi di questo genere che concludono immediatamente una determinata teoria o spiegazione della vita onirica è tempo che io sostituisca al mio resoconto una siloge delle affermazioni di vari autori filosofi e medici intorno alle caratteristiche psicologiche del sogno per Lemoyne l'incoerenza delle immagini è il solo carattere essenziale del sogno Mauri è dello stesso parere non si danno sogni del tutto ragionevoli e che non presentino qualche incoerenza qualche anacronismo qualche assurdità secondo Hegel il sogno manca di ogni ragionevole coerenza oggettiva Dugas dichiara il sogno è l'anarchia psichica affettiva e mentale è il gioco delle funzioni lasciate a se stesse che si esercitano senza controllo e senza scopo nel sogno lo spirito è un automo spirituale persino Volkert ammette l'allentamento la dissoluzione e il disorientamento della vita rappresentativa saldamente contenuta durante il giorno dalla forza logica dell'io centrale per quanto nella sua teoria l'attività psichica durante il sonno non appaia affatto priva di scopo è difficile censurare in modo più aspro di quanto abbia fatto Cicerone l'assurdità dei legami e delle rappresentazioni che si creano nel sogno nil tam prepostere tam incondite tam mostruose cogitari potest quod non possimus somniare non si può pensare nulla di così assurdo strano mostruoso che non si possa sognare Fechner dichiara è come se l'attività psicologica si trasferisse dal cervello di un savio in quello di un pazzo Rodestock in realtà non sembra possibile riconoscere delle leggi stabili in questa pazzesca attività sottraendosi alla severa disciplina della volontà razionale e dell'attenzione che reggono il processo rappresentativo vigile il sogno sconvolge ogni cosa violentemente come in un caleidoscopio Hildebrandt che balzi prodigiosi si concede chi sogna per esempio nelle sue conclusioni logiche con che disinvoltura accetta il capovolgimento addirittura dei più solidi canoni dell'esperienza come sopporta senza batter ciglio certe ridicole contraddizioni nell'ordinamento naturale e sociale sinché come si dice quel che è troppo è troppo e l'assurdità spinta al culmine dall'esagerazione provoca il suo risveglio qualche volta moltiplichiamo con tutta innocenza 3 per 3 uguale 20 non ci sorprende che un cane reciti diversi che un morto si incammini da solo verso la sua tomba che una roccia navighi sull'acqua con estrema serietà ci richiamo per ordine superiore nel ducato di Bernburg o nel principato di Liechtenstein allo scopo di osservare la flotta da guerra di quel paese oppure poco prima della battaglia di Poltava ci arruoliamo come volontari nell'esercito di Carlo XII Binz riferendosi alla teoria del sogno che si ricava da queste impressioni scrive su dieci sogni almeno nove hanno un contenuto assurdo accossiamo persone e cose che non hanno il minimo rapporto fra loro un attimo dopo come in un caleidoscopio il raggruppamento cambia e diventa se possibile ancora più assurdo e folle di prima così va avanti il mobile gioco del nostro cervello non perfettamente addormentato finché svegliandoci ci portiamo la mano alla fronte e ci chiediamo se siamo ancora capaci di immagini e pensieri ragionevoli Mauri caratterizza il rapporto fra immagini oniriche e pensieri dello stato vigile con un paragone molto suggestivo per il medico la produzione di queste immagini che di solito nell'uomo desto sono provocate dalla volontà corrisponde per l'intelligenza a ciò che sono per la motilità certi movimenti dovuti alla corea e alle affezioni paralitiche del resto il sogno è tutta una serie di degradazioni della facoltà pensante e raziocinante non sembra quasi necessario riferire l'opinione degli studiosi che applicano alle singole funzioni psichiche superiori il giudizio di Mauri per Strumpel nel sogno scompaiono naturalmente anche quando l'assurdità non è palese tutte le operazioni logiche basate su relazioni e rapporti secondo Spitta le rappresentazioni sembrano sottrarsi totalmente al principio di causalità Radestock insieme ad altri sottolinea la debolezza critica e deduttiva del sogno per Joe nel sogno non esiste critica e neppure correzione di una serie di percezioni da parte del contenuto della coscienza in toto egli afferma nel sogno esistono tutte le varietà di attività della coscienza ma incomplete inibite isolate l'una rispetto all'altra Stricker e molti altri con lui spiegano le contraddizioni in cui cade il sogno di fronte al nostro sapere vigile con la dimenticanza di vari dati di fatto o la perdita del rapporto logico fra le rappresentazioni e così via pur valutando in genere così sfavorevolmente le prestazioni psichiche nel sogno questi studiosi riconoscono però che in esso permane un certo residuo di attività psichica questo è ammesso esplicitamente da Wundt le cui teorie sul sogno sono diventate legge per tanti altri ricercatori ma di che genere di che tipo è questo residuo di attività psichica normale quasi tutti ammettono che nel sogno la facoltà della riproduzione la memoria apparentemente sembra aver sofferto di meno e può addirittura dimostrare una certa superiorità sulla memoria dello stato vigile per quanto parte delle assurità del sogno debbano venire spiegate proprio con la mancanza di memoria dello stato onirico secondo Spitta è la vita affettiva della psichie che non viene lesa dal sonno ed è quindi essa a dirigere il sogno con Gemmuth egli indica la sintesi costante dei sentimenti intesi come essenza soggettiva più intima dell'uomo per Scholz una delle attività psichiche che si manifestano nel sogno è la reinterpretazione allegorizzante del materiale onirico Siebeck nota la presenza anche nel sogno dell'attività interpretativa di integrazione esercitata dalla psichie in opposizione ad ogni percezione e visione particolarmente difficile risulta poi la valutazione della funzione psichica ritenuta suprema vale a dire la coscienza Delboeuf confessa di non riuscire a capire la distinzione le leggi associative che regolano i rapporti fra le rappresentazioni valgono anche per le immagini oniriche anzi il loro dominio si esprime in modo più evidente e intenso Strumpel a quanto pare il sogno si svolge o esclusivamente secondo i principi delle nude rappresentazioni o secondo i principi degli stimoli organici associati a queste rappresentazioni vale a dire senza possibilità di intervento della riflessione della ragione del gusto estetico e del giudizio morale per gli studiosi che vengo qui citando la formazione del sogno sembra avvenire nel modo seguente la somma degli stimoli sensoriali che agiscono nel sonno provenendo dalle varie fonti già indicate evoca dapprima nella psiche un certo numero di rappresentazioni che si presentano come allucinazioni più esattamente illusioni vista la loro derivazione da stimoli esterni e interni queste si congiungono fra loro secondo le note leggi di associazione e danno luogo a loro volta sempre secondo queste leggi a una nuova serie di rappresentazioni immagini tutto il materiale viene quindi elaborato alla meglio dalla residua capacità ordinatrice e ideativa della psiche non si è peraltro ancora riusciti a comprendere quali motivi decidono l'intervento di questa piuttosto che di quella legge associativa nell'evocazione delle immagini che non derivano dall'esterno è stato però ripetutamente osservato che le associazioni esistenti fra le rappresentazioni oniriche sono del tutto particolari e diverse da quelle del pensiero vigile dice Volkert nel sogno le rappresentazioni si rincorrono e si afferrano secondo somiglianze casuali e nessi quasi impercettibili ogni sogno è percorso da queste associazioni sbadate senza legami Mauri attribuisce estrema importanza a questa caratteristica del collegamento tra le rappresentazioni che gli permette di stabilire una più stretta analogia fra vita onirica e certi disturbi mentali il delir presenta secondo lui due caratteri fondamentali uno un'azione spontanea e come automatica dello spirito due un'associazione di idee non valida e irregolare dobbiamo allo stesso Mauri due ottimi esempi di sogni nei quali la semplice assonanza delle parole crea il nesso fra le rappresentazioni una volta egli sognò di intraprendere un pellegrinaggio a Gerusalemme e alla Mecca dopo molte avventure venne a trovarsi in compagnia del chimico Pelletier che alla fine di una conversazione gli diede una pala di zinco questa in un successivo episodio del sogno si trasformò in una grande spada da combattimento un'altra volta procedeva in sogno sulla strada maestra leggendo il numero dei chilometri sulle pietre miliari si trovò quindi in una drogheria dove c'era una grande bilancia sul cui piatto un tale deponeva pesi da un chilo a questo punto il droghiere gli chiese lei non è a Parigi è nell'isola di Ghilolo vennero poi altri episodi nel corso dei quali vide il fiore Lobelia e il generale Lopez la cui morte aveva appreso poco prima finalmente si svegliò mentre stava giocando all'otto è ovvio naturalmente che questa svalutazione delle prestazioni psichiche durante il sogno ha dato luogo a numerose contestazioni ma in questo caso per la verità contestare sembra difficile non è neppure molto rilevante che uno di coloro che affermano il limitato valore della vita onirica assicuri che in essa valgono le stesse leggi psicologiche della veglia o che un altro dichiari che il sogno non è né irragionevole né delirante se poi costoro non si prendono la briga di conciliare questi giudizi con le affermazioni precedenti circa l'anarchia e la dissoluzione di tutte le funzioni psichiche nel sogno ad altri autori però sembrava essere balenata la possibilità che la follia del sogno non sia priva di metodo che sia soltanto una finzione come quella del principe danese alla cui follia si riferisce il penetrante giudizio appena citato forse questi studiosi hanno evitato di giudicare secondo l'apparenza o forse l'apparenza da essi conosciuta era diversa Havelock Ellis per esempio senza soffermarsi sull'assurdità del sogno lo definisce un mondo arcaico di profonde emozioni e di pensieri imperfetti il cui studio potrebbe farci conoscere primitivi stadi di sviluppo della vita psichica la stessa concezione è sostenuta in modo ancora più esteso e penetrante da James Sully è una testimonianza tanto più meritevole di attenzione in quanto proviene da uno psicologo che più di ogni altro era convinto del significato recondito dei sogni ora i nostri sogni sono un mezzo per conservare queste successive personalità nel sonno ritorniamo ai nostri antichi modi di guardare alle cose e ai nostri antichi sentimenti verso di esse ritorniamo ai impulsi e attività che ci hanno a lungo dominato un pensatore come Delbeuf afferma certo senza recar prove contro il complesso delle obiezioni che colpiscono la sua tesi e quindi in fondo a torto nel sonno a parte la percezione tutte le facoltà dello spirito intelligenza immaginazione memoria volontà moralità restano intatte nella loro essenza solo esse si applicano a oggetti immaginari e in movimento il sognatore è un attore che recita di propria volontà la parte del pazzo e del saggio del carnefice e della vittima del nano del gigante del demonio e dell'angelo chi ha contestato più energicamente la riduzione del rendimento psichico nel sogno sembra stato il marchese Durvey che è al centro di una vivace polemica di Mauri è l'opera del quale nonostante ogni tentativo non sono riuscito a procurarmi secondo Mauri il marchese Durvey attribuisce all'intelligenza durante il sonno tutta la sua libertà d'azione e di attenzione e sembra far consistere il sonno solo nell'occlusione dei sensi nella loro chiusura di fronte al mondo esterno di modo che chi dorme non si distingue affatto secondo la sua maniera di pensare da colui che lascia errare il proprio pensiero ottundendo i propri sensi la differenza fra il pensiero normale e il pensiero di chi dorme sta nel fatto che per quest'ultimo l'idea prende una forma visibile obiettiva e assomiglia tanto da procurare confusione alla sensazione determinata dagli oggetti esterni il ricordo assume l'apparenza del fatto contemporaneo ma Mauri aggiunge vi è un'altra differenza fondamentale e cioè che le facoltà intellettuali dell'uomo addormentato non presentano l'equilibrio che esse mantengono nell'uomo testo secondo Vaschide che ce ne dà notizie più esatte Hervey tratta dell'apparente incoerenza dei sogni nei termini seguenti l'immagine del sogno è la copia dell'idea la cosa principale è l'idea la visione è solo accessoria accertato questo occorre saper seguire il cammino delle idee saper analizzare il tessuto dei sogni l'incoerenza diviene allora comprensibile le concezioni più fantastiche diventano fatti semplici e del tutto logici i sogni più bizzarri trovano una spiegazione del tutto logica saperli analizzare Joan Starke ha richiamato l'attenzione su un vecchio studioso che ignoravo Wolf Davidson il quale nel 1799 sosteneva un'analoga soluzione dell'incoerenza onirica gli strani salti delle nostre rappresentazioni nel sogno sono tutti causati dalla legge dell'associazione nella psiche però il collegamento si svolge a volte in modo oscuro tanto da farci credere a un salto delle rappresentazioni laddove ne esiste alcuno nella letteratura la scala di valutazione del sogno come prodotto psichico è molto estesa va dalla riduzione più radicale di cui conosciamo ormai l'espressione all'intuizione di un valore non ancora svelato e arriva fino a innalzare il sogno molto al di sopra delle capacità della veglia Hildebrandt che come sappiamo ha formulato in tre antinomi le caratteristiche psicologiche della vita onirica nella terza di queste riassume i risultati finali di tutta la serie è il contrasto fra un'intensificazione un potenziamento che rasenta spesso il virtuosismo da una parte e dall'altra una diminuizione netta e un indebolimento della vita psichica che possono spingersi spesso molto al di sotto del livello umano per il primo aspetto chi non è in grado di confermare per esperienza personale che nella creazione e nello sviluppo del genio onirico si manifestano a volte una profondità e un'intensità spirituale una delicatezza di sentimenti una chiarezza di visione una finezza d'osservazione una prontezza di spirito tali da costringerci a riconoscere che non ne siamo sempre in possesso durante la vita vigile il sogno possiede poesia meravigliosa allegorie efficaci umorismo incomparabile ironia deliziosa esso vede il mondo in una particolare luce ideale e spesso accresce l'effetto dei suoi fenomeni con un'intima comprensione della loro essenza ci pone davanti agli occhi la bellezza terrestre in uno splendore veramente celestiale il sublime nella sua più alta maestà l'orrore nella sua forma più ripilante il ridicolo con un senso comico irresistibile e talvolta al risveglio siamo ancora talmente assorti in queste impressioni da ritenere che mai e poi mai il mondo ci abbia offerto qualcosa di simile è lecito chiedersi se quelle osservazioni espressanti e questo elogio entusiastico siano proprio rivolti allo stesso oggetto forse agli uni sono sfuggiti i sogni assurdi e agli altri i sogni di profondo e sottile significato e se esistono entrambi i tipi sogni che meritano l'una e l'altra valutazione non è forse ozioso andare alla conquista di una caratterizzazione psicologica del sogno non basta forse dire che in esso tutto è possibile dalla più fonda degradazione della vita psichica sino a un'accentuazione di essa inconsueta per la vita vigile per quanto comoda questa soluzione si scontra con il fatto che ogni tentativo sinora compiuto dagli studiosi del sogno sembra essersi fondato sulla possibilità di una sua caratterizzazione valida in generale in grado di superare ogni contraddizione è innegabile che le capacità psichiche del sogno hanno trovato riconoscimento più spontaneo e più caloroso durante quelle temperie intellettuali ora alle nostre spalle in cui gli spiriti erano dominati non dalle scienze naturali esatte ma dalla filosofia affermazioni come quella di Schubert secondo cui il sogno libera lo spirito dal potere del mondo esterno lo stacca dai vincoli della sensibilità e giudizi analoghi di Fichte Junior e altri i quali tutti presentano il sogno come uno slancio della vita psichica verso una sfera più alta ci appaiono oggi appena comprensibili e vengono ripetuti soltanto da mistici e devoti l'affermarsi della mentalità scientifica è andato di pari passo con una reazione nella valutazione del sogno e proprio i medici più di tutti gli altri tendono a considerare insignificante e priva di valore l'attività psichica nel sogno mentre i filosofi e gli osservatori non professionisti i psicologi dilettanti che hanno dato contributi proprio in questo settore e non certo trascurabili insistono per lo più in migliore accordo con le intuizioni popolari sul suo valore psichico chi tende a sminuire il rendimento psichico nel sogno predilige ed è naturale un'eziologia fondata sulle fonti di stimolo somatiche chi concede alla psiche sognante la maggior parte delle sue facoltà vigili non ha motivo di non riconoscerle anche un autonomo impulso a sognare tra le capacità eccezionali ascrivibili al sogno anche in un confronto obiettivo la più evidente è quella della memoria abbiamo trattato minuziosamente l'esperienza niente affatto rare che lo provano un altro suo privilegio esaltato spesso dagli autori meno recenti vale a dire la capacità sovrana di superare distanze di tempo e di luogo è facilmente riconoscibile come un'illusione questo privilegio osserva Hildebrandt è appunto un privilegio illusorio il sogno è superiore al tempo e allo spazio come il pensiero vigile appunto perché esso è soltanto una forma del pensiero rispetto alla temporalità il sogno sembra godere di un altro privilegio di essere anche in un altro senso indipendente dal fruire del tempo sogni come quello dell'esecuzione capitale di Mauri che abbiamo raccontato in precedenza sembrano dimostrare che esso riesce a condensare in un brevissimo lasso di tempo un contenuto percettivo nettamente superiore al contenuto di pensiero che la nostra attività psichica è in grado di controllare durante la veglia contro questa conclusione sono state sollevate varie obiezioni dopo la comparsa degli scritti di Le Lorraine e Leggier sulla durata apparente dei sogni è in corso un'interessante discussione che probabilmente non è ancora giunta a un chiarimento definitivo su questo problema delicato e ricco di conseguenze stando a numerosi resoconti e alla rassegna di Chabeni sembra innegabile che il sogno possa riprendere i compiti intellettuali della veglia e portarli a una conclusione non raggiunta di giorno che sappia risolvere dubbi e problemi e che possa diventare fonte di nuova ispirazione per poeti e compositori ma se il fatto è certo la sua spiegazione soggiace a numerosi dubbi che toccano questioni di principio infine la presunta capacità divinatoria del sogno costituisce un oggetto di discussione in cui confluiscono da una parte obiezioni difficilmente superabili e dall'altra assicurazioni ripetute con insistenza si evita e probabilmente ha ragione di negare ogni realtà a quest'argomento perché si preannuncia forse la possibilità in una serie di casi di giungere a una spiegazione psicologica naturale